Millie Carlucci commossa, a Ballando con le stelle c'è chi mi segue da lassù La conduttrice di Ballando con le stelle, i miei genitori mi guardano da lassù Lunga intervista di Millie Carlucci, pubblicata sulle pagine del numero del settimanale di più uscito nelle edicole sabato scorso Nell'intervista in questione la conduttrice di Ballando ha parlato ovviamente dell'edizione che partirà tra una settimana esatta, confessando Ogni volta che inizia questo programma, faccio un grande respiro e penso ai miei genitori che mi guardano da lassù, poi entro in pista e via Tanti concorrenti, come tutti gli anni, che sono pronti a scendere in pista, ma il più atteso è sicuramente Lino Banfi, sul quale Millie ha dichiarato L'ho martellato per tantissimo tempo, specie negli ultimi anni A questo proposito la conduttrice ha rivelato di essere andata spesso ultimamente nel ristorante che Lino gestisce con la figlia Rosanna a Roma, e anche lì ha cercato di convincerlo a partecipare a Ballando, fin quando lui ha finalmente accettato Millie Carlucci. Ho recitato con Lino Banfi, ma fare l'attrice non era la mia strada Ha esordito proprio con Lino Banfi, la conduttrice di Ballando con le stelle nel mondo dello spettacolo, nel lontano 1983, prendendo parte con lui al film, Pappa e Ciccia Una strada, quella della recitazione, che Millie poi ha deciso di non proseguire, spiegando a questo proposito nell'intervista Mi sono accorta quasi subito di annoiarmi, a me piace avere l'adrenalina in corpo, il mondo del cinema può avere tempi anche molto lunghi tra un Chuck e l'altro E proprio Banfi, tempo dopo, le ha dato la spinta per iniziare il percorso che l'ha portata al vero successo, appunto quello della conduzione televisiva Ci siamo ritrovati insieme in tv, nel programma Risatissima, e in quell'occasione Lino mi ha detto che avevo trovato finalmente la mia strada, ha raccontato Da quel momento ho scelto di vivere con l'adrenalina che trasmette il pubblico e mi sono innamorata della diretta televisiva asserito inoltre Lino Banfi farà rimanere a bocca aperta il pubblico, la conduttrice ne è sicura Sulla partecipazione di Lino Banfi a Ballando, Millie Carlucci, ha chiarito di voler sfatare il mito messo in piedi dall'attore stesso che, per umiltà, dice di non saper assolutamente ballare Vi garantisco che Lino farà rimanere tutti a bocca aperta perché è piuttosto bravino, ha detto, rivelando poi che, come annunciato giorni fa quando sono state rese note le coppie, ad accompagnarlo in pista avrà una maestra molto brava, ossia Alessandra Tripoli